L'aggiornamento di oggi è qualcosa di fantastico, abbiamo infatti nuovi luoghi sulla mappa, abbiamo il ritorno dello SCAR e tantissime altre novità. Mi raccomando, sedetevi comodi, godetevi il video, ma soprattutto supporto al massimo. Ovviamente per supporto al massimo intendo il supporto al massimo con un mi piace, il codice Lollopollo, non qualcuno che si chiama Massimo. Comunque, battute stupide a parte, quello che dovremmo fare sarà andare a scoprire innanzitutto la nuova zona di Fortnite. Perché se guardiamo attentamente la mappa, possiamo notare che è comparsa una nuova zona sulla mappa, una nuova città. Quindi, l'andremo subito a vedere, ma soprattutto andremo a parlare di tutte le altre zone nuove in arrivo e tutte le nuove armi, perché sono spettacolari, regà. E sì, ci sarà anche il ritorno dello SCAR. Comunque adesso, direi di andare subito ad esplorare la nuova zona di... non mi ricordo nemmeno come si chiama, regà. Dovrebbe essere, in teoria, la zona di deposito truciolandia, la zona dove si trovavano e si trovano ancora tutti i tronchi. A questa zona, però, si stanno aggiungendo delle case, regà. Guardate che figata, ci sono un sacco di casette tutte strane. Eeeh, ok, figo. Hanno aggiornato questa città, l'hanno chiamata, non lo so, non so come l'hanno chiamata, regà, perché non c'è il nome a tutti gli effetti. E da quello che ho capito in questa stagione, ci saranno dei cambiamenti sulla mappa molto costanti, proprio come questo. Tranquilli perché vi andavo a spiegare tutto e da come potete vedere, regà, a parte che c'è una nave dei pirati, lì. Andiamola subito a vedere perché mi sembra, regà, che questa roba sia tipo... Cioè, nel senso, questi alberi, quest'albero qua che vedete, che è uguale all'albero della realtà, che si trova proprio qui. Quindi, sembra portare indietro nel tempo gli oggetti, le città, non lo so, questa città a me mi sembra di averla vista su Fortnite. Io non vorrei essere troppo sicuro, però guardate, regà, la barca dei pirati c'è. Non so se è la stessa barca dei pirati che c'era nelle vecchie season di Fortnite, però comunque c'è una barca dei pirati, ragazzi. E questa cosa è molto particolare, soprattutto perché non c'entra un cazzo, cioè non c'entra niente. Che cosa c'entra una barca dei pirati a deposito Trusciolandia? Spiegatemelo. Comunque diciamo che questo aggiornamento parte col botto, con una nuova zona, una nuova città, e ci fa capire che durante questa stagione ci saranno tantissime altre zone che andranno a cambiare grazie a questi alberi della realtà, che piano piano modificheranno tutte le zone. Che figata. Ma, oh mio Dio, ma chi è? Jack Sparrow, questo? Oddio, ma c'è Jack Sparrow, regà, vabbè. Continuando il nostro viaggio all'esplorazione di questo nuovo aggiornamento, possiamo trovare una nuova zona molto particolare. Da come vedete, infatti, ci sono, regà, le zone di Star Wars dedicate a Darth Fener con le sue spade. Infatti, se noi troveremo questi nuovi forzieri, regà, guardate qua, 3, 2, 1, spade laser. Anzi no, boom, così, da nulla. Fucile blaster, regà, attenzione. Nuova arma. Eh sì, regà, nuova arma. Non c'era tutti gli effetti quest'arma. E, da quello che so, però, potremmo trovare anche delle spade laser. Quindi, continuiamo a cercare. No, per adesso ci danno solo fuscili blaster, regà. Forse dipende dalla zona della mappa in cui vai. Non ne ho idea, non lo so. Però abbiamo trovato delle cose nuove, che figo. Avete presente la casa di Mia Oscolo? E se vi dicessi che adesso c'è pure Mia Oscolo dentro, andiamo a cercarlo, andiamo a vederlo dopo tantissimo tempo, regà. Guardate un po' chi troviamo dentro la casetta. Il nostro Mia Oscolo è tornato su Fortnite, non come boss, ma come NPC. E aiuterò la fratellanza ad un costo. Non so che significa, lo scopriremo, però c'è Mia Oscolo, ragazzi. E questo è l'importante, o no? Beh, sì, secondo me sì. Guardate, guardate che muscoli. Guardate che muscoli che ha questo Mia Oscolo. Eh, vabbè, ma è fortissimo, è fortissimo. Però io ne approfitterei, dato che c'è lui, per provare anche questo fucile. Che sembra essere... No, è devastante, regà. È devastante. Regà, il fucile di Star Wars è devastante. Ha colpi infiniti. Regà, ha colpi infiniti. Colpi letteralmente infiniti fino a che l'arma non diventa surriscaldata e può ricominciare a sparare. È fortissima. Per quanto riguarda Deposito Truciolandia, che abbiamo visto prima essere cambiata, dovete sapere che cambierà ad ogni partita e avrà diversi stili che rappresenteranno zone della mappa del capitolo 1 e 2. Che figata è questa roba, regà? Il signor Fortnite ha aggiunto nei file di gioco una nuova versione dello Scarra. Scarra che sta per tornare su Fortnite, lo avevamo già visto in realtà durante l'evento finale. Lo Scarra che sta per tornare però sarà una versione leggermente diversa. Magari cambierà il suono, magari cambieranno i colpi, magari cambierà un qualcosina o magari avrà il mirino in prima persona, non lo sapremo. O meglio, lo sapremo tra qualche settimana, credo, giorno in cui potrebbe arrivare questo nuovo Scarra. Comunque, non sono atterrato qui a caso. Sono atterrato qui perché da come vedete lì c'è l'albero della realtà. Questa, infatti, sarà la prossima zona colpita dall'albero della realtà. Che cosa farà quest'albero? Proprio come di qua, Deposito Truciolandia, in questa zona compariranno delle altre zone del capitolo 1 e del capitolo 2. Quindi questa zona si trasformerà magicamente in Neopinnagoli, in, non lo so, tutte le città che vi vengono in mente del capitolo 1 e 2. Tutte unite. Abbiamo già qualche foto e qualche indizio, ve le sto facendo vedere e è una figata, regà. Questa roba è davvero fighissima. Complimenti all'Epic perché non me lo aspettavo ma ha fatto una cosa davvero incredibile. L'albero della realtà, infatti, trasforma le città ad ogni partita e le cambia. Ma che figata. Questo ci permetterà di avere città sempre diverse ad ogni partita e sarà una figata incredibile. Quindi, ricapitolando, è cambiata già una città che cambierà però ad ogni partita, quindi sarà diversa ad ogni partita. Abbiamo avuto il punto di interesse di Star Wars, di Darth Vader, con la sua nuova arma. E in arrivo un nuovissimo Scarra. Questa zona presto diventerà una zona stranissima che cambierà ad ogni partita. Tra l'altro, in questa zona abbiamo anche un'altra base di Star Wars, ma vi sto portando a vedere lo sparaseghe, regà. La nuova arma in arrivo. Anzi, senza in arrivo. La nuova arma che è già arrivata. Infatti, ci basterà avvicinarci a questo deposito, regà. Oh mio Dio, ma qua c'è un percorso. Vabbè, comunque, lasciando stare questo, abbiamo a nostra disposizione, ragazzi, gli sparaseghe? Così si chiamano? Credo di sì. Ne andiamo subito a prendere uno ed eccolo qua, ragazzi. Proviamo a fare una cosa, sono curioso, però. Proviamo a fare tipo una cosa. Forse non andavo usato così, regà. Forse non andavo usato così come lo sto usando, però sembra figo. Cioè, regà, sembra veramente figo. Certo, è letteralmente una motosega, eh. Cioè, posso andare così. Ragazzi, hanno aggiunto le motoseghe su Ford. Cioè, io mi posso mettere qua e lavorare, regà. Guardate, sto sfrullinando, ma non ci credo. Ah, regà. Ragazzi, ma non ha senso. Non ha senso questa cosa. E poi più tengo premuto e forse più si carica. Oddio, aspettate. Vediamo un po'. Ma che figata. Farmate legno, regà. Cioè, è utile solo se volete farmare legno, secondo me. Perché fate una cosa del genere. La sparate qua. La sparate di qua. E farma legno al posto vostro. Cioè, questa può essere un po' l'utilità. Perché costruire un box, per esempio. Ok? Facciamo finta che questo sia un box di un avversario. Quanto può essere utile una motosega lanciabile contro un box dell'avversario? Scopriamolo, credo. Lanciamo la motosega lì? Oddio, in realtà nemmeno troppo, regà. Secondo me. Oddio, aspettate. Se ne sparate tre, sì. Inizia ad essere un po' più interessante la situazione. Guardate. Cioè, nel senso, se ne sparate tre, forse sì. La situazione è un po' più interessante. Però comunque non è che sono così forti. Fatemi sapere che ne pensate di questi nuovi sparasega. Perché secondo me possono essere utili, ma non troppo. Non ci resterà altro che scoprire se saranno utili oppure no. Però il fatto che se ne possano lanciare tre insieme, che vanno così veloce, forse sì. Questo è utile. Questo era il nuovo aggiornamento di oggi. Fatemi sapere che ne pensate. Perché noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Grazie della visione e un saluto a tutti. Spero che questo video aggiornamento vi sia piaciuto.